Quasi 200 partite in Serie A per te tra Milano, Mozzanica e Napoli, sposi oggi il Lumezzane, con quale ambizione? Sposo il Lumezzane perché mi ha mostrato un gran progetto con voglia di far bene essendo una neopromossa e ho accettato questa sfida per portare tutta la mia esperienza che può servire a questa squadra. Lo anticipavi tu adesso, hai tanta esperienza, sei una centrocampista di qualità che dovrà guidare sia in campo che anche un po' fuori un reparto e una squadra comunque piuttosto giovani. Sì, sono una ragazza, una calciatrice che le piace molto aiutare le compagne di squadra quindi avere un reparto giovane con me all'interno penso faccia bene perché posso dare una mano alle ragazze più giovani. La Serie B sta ormai prendendo forma, mancano solo gli ultimi ripescaggi, che campionato ti aspetti? Mi aspetto un campionato molto competitivo col fatto che l'anno prossimo saliranno tre squadre dalla B, infatti secondo me è salito molto di livello e mi aspetto di fare bene con questa squadra visti gli acquisti e le conferme che hanno fatto quest'anno. Tra pochi giorni ci sarà il raduno, martedì a Castenedolo, quanta voglia c'è? C'è tanta voglia, quando si rinizia sempre una nuova esperienza ci sono tante motivazioni e stimoli e non vedo l'ora di iniziare. Qual è stata la scintilla che ti ha spinto a lasciare la Serie A per sposare il progetto di Lumezzani in B? Mi è stato mostrato un progetto molto bello di una squadra che sale dalla Serie C dopo averlo affrontato molto bene e mi ha spinto a venire qua la grande voglia che ho trovato in loro nell'affrontare questo campionato. Grazie e un bocca al lupo. Crepe il lupo.